Sono stati individuati, almeno a quanto si legge oggi sui quotidiani, sette siti di stoccaggio per il periodo in cui acerla... Ne parliamo la prossima settimana perché lunedì abbiamo un incontro molto molto importante tra comune, città metropolitana, sia dove elaboreremo in maniera definitiva la nostra posizione, martedì avremo un incontro in regione e nei prossimi giorni avremo un incontro anche in prefettura. Faremo il punto e credo che in questa materia si devono usare le parole giuste con le cognizioni tecniche adeguate quando si è fatto quel lavoro di squadra necessario perché non c'è nessun allarmismo, nessuna scelta già presa, nessuna emergenza e chi urla a questo evidentemente vuole nascondere altro. No, faccio l'esempio visto che il Movimento 5 Stelle chiedeva uno stato di emergenza, forse per distogliere dalla vera emergenza che è quella di Roma. Quindi voglio rassicurare tutti che stiamo lavorando bene in sinergia con tutte le istituzioni per gestire un momento che sarà molto ma molto ma molto difficile, che non banalizzo per nulla ma per affrontarlo bene c'è bisogno di poche parole, molti fatti e soprattutto nessun allarmismo, nessun panico, è tanto lavoro, tanto coinvolgimento dei territori e di tutti i comuni, nessuna decisione sarà presa da parte di nessuno senza i coinvolgimenti di tutti i territori.